Roberto, è una bellissima iniziativa essere selezionato per partecipare a questa bella iniziativa Punk in Art che vedrà Gela essere presente in Campania. Sì, è una bellissima iniziativa, è un concorso che selezionava artisti nazionali e internazionali. Sono stati scelti sei artisti, sia come ho detto poco fa, nazionali e internazionali, di cui tre siciliani, io, Domenico Pellegrino e Max Ferrigno, e poi un'artista giapponese, una belga, e poi invece altre dieci panchine sono destinate a un concorso che hanno fatto sui social in base ai like. E come cosa farete, cosa svilupperete proprio in Campania? L'evento si sviluppa così, sono tre giorni, il primo giorno ci sarà una presentazione ufficiale con la primazione della giuria, e il secondo giorno dipingeremo queste panchine. Sono panchine fatte apposta per l'inaugurazione di questo nuovo lungomare, intitolato al regista Rossellini, e ognuno avrà la sua panchina. Dipingeremo le panchine, saranno lì come se fosse una galleria all'aperto. Ma porterai i colori, la freschezza e anche il caldo di Gela su quelle panchine? Casualmente il tema sono i limoni amalfitani, quindi avremo limoni buttati lì, le panchine saranno piene di questi limoni, il tema è anche il regista Rossellini, però i colori della Sicilia li portiamo dietro. Adesso ci auguriamo che questo concorso venga anche esteso all'altra località, e ci rivediamo soprattutto a Gela. Sì, sono iniziative che possono essere portate dappertutto. Il nostro territorio è ricco di zone da riqualificare, da dipingere, quindi si possono fare bandi sempre. Ecco, se ci trovassimo in questo momento a intavolare un concorso a Gela, cosa vorresti dipingere? Ci sono zone del centro storico, sono dei vicoletti totalmente abbandonati, case dove noi vediamo praticamente soltanto il muro ormai in piedi, quindi si potrebbe benissimo fare una cosa del genere.